224 giovanissimi velisti tra gli 8 e i 15 anni provenienti da 9 nazioni e divisi in 43 squadre. Sono questi i numeri importanti dell'ottava edizione della International Biper Banca Carnival Race, la gara che per giorni si è tenuta a largo del mare di Crotone. La Carmes è stata organizzata dal locale club velico, con il contributo della Regione Calabria e numerosi sponsor. Sul podio, dopo giornate entusiasmanti di sport, sono saliti Andrea De Murtas, Maria Luisa Silvestri e Daniel Michelschenko. Obiettivo centrato? Assolutamente sì, 12 prove su 12 sono veramente il nostro obiettivo principale. Ci siamo riusciti grazie al vento che non ci tradisce mai e che comunque è stato accompagnato da un sole e delle temperature meravigliose. Per cui sono sicura che gli atleti non si possono lamentare, come al solito a Crotone hanno trovato condizioni super favorevoli. Che tipo di livello era questo di Crotone? Il livello sicuramente è molto alto, è una regata di grande interesse nello scenario nazionale ed internazionale e credo che oggi, finalmente possiamo dirlo, Crotone si laurea nuovamente come città della vela. Anche questo è Calabria straordinaria? Sì, una Calabria che vorremmo diventasse ordinaria perché abbiamo il potenziale naturalistico, abbiamo il clima che ci permette di destagionalizzare il turismo e quindi di viverlo 12 mesi su 12 mesi, abbiamo le organizzazioni del territorio come in questo caso il club velico di Crotone che riescono a promuovere per ben otto edizioni un evento così significativo che è riuscito a coinvolgere ben nove paesi e oltre 200 partecipanti e quindi duemila in tutto che hanno contribuito a incentivare lo sviluppo economico del contesto, quindi una regata internazionale che la Regione Calabria, con un importante contributo, ha voluto sostenere perché è la nostra mission.